ciao ragazzi benvenuti a un crimine al giorno per il primo maggio siamo nel 2024 ma andiamo indietro al 1890 oggi io vi presento veramente un caso di un crimine eccezionale uno di quei crimini per cui effettivamente ci vuole fondamentalmente un grande cervello una grande furbizia e una grande volontà è tutto sommato portato a termine con degli elementi semplici la situazione nel 1890 è quella di un ufficio postale vicino a frosinone adesso tra poco andremo a vedere la scheda ed è una classica situazione di lui lei l'altro lei si chiama penelope una signora che ha sia un marito che un amante e l'amante lavora nell'ufficio postale dal quale lei manderà una raccomandata al marito dicendo che fondamentalmente ha assolutamente bisogno di poter vivere la propria vita libera le racconterà di avere avuto una relazione oramai di lunga data con questo impiegato postale dell'ufficio postale insomma di frosinone e racconterà al marito che se sostanzialmente il marito non sarà pronto a lasciarla libera per vivere questa emozionante storia d'amore lei addirittura è pronta a togliersi la vita andiamo a vedere la scheda e perché il motivo insomma per cui il piano della signora penelope lo descrivo effettivamente come un crimine al giorno tra i più eccezionali tra i migliori e i miglior come dire i miglior strutturati che si possano avere siamo nel 1890 come ho detto un ufficio postale di palliano in provincia di frosinone siamo fra le 8 e le 12 augusto ottavi impiegato postale è l'amante della signora penelope carnevali moglie di mario carnevali che è un sottufficiale di cavalleria e che prende la rivelazione della moglie con insomma quel piglio tipico che può essere nel 1890 quello di un sottufficiale di cavalleria al di là del tradimento e al di là della preoccupazione insomma per la moglie che ha dichiarato in questa raccomandata che si sarebbe tolta la vita proprio quella mattina a meno che lui non avesse portato a termine l'obiettivo di allontanarsi e di lasciarla libera di vivere con il proprio amante il loro amore eccezionale ecco che cosa fa mario carnevali sottufficiale di cavalleria pensate forse che si avvierà per salvare la moglie che ha minacciato di togliersi la vita proprio quella mattina pensate che la cavalleria pensate che questo senso d'onore lo porterà effettivamente a salvare la moglie vi sbagliate di grosso lo porterà a prendere una pistola d'ordinanza a recarsi presso l'ufficio postale da cui è partita tra l'altro la raccomandata che è arrivato voi pensate una raccomandata di richiesta di separazione sostanzialmente mandata dallo stesso ufficio postale in cui lavora l'amante augusto ottavi si recherà con la pistola d'ordinanza e andrà a uccidere colpi da mal a fuoco l'amante della moglie augusto ottavi appunto sotto gli occhi di impiegati e numerosi clienti dell'ufficio postale di palliano presso frosinone mario carnevali così verrà evidentemente inquisito per assassino volontario dopo non essere andato a salvare la moglie ma ad uccidere l'amante che era implicato in questa situazione in questo trio tipico insomma da operetta per un movente tipico che è quello della gelosia e mario carnevali quindi verrà non soltanto come dire inquisito ma verrà anche condannato per l'omicidio di augusto ottavi ma perché io l'ho definito un crimine incredibilmente vengo genia congegnato e geniale perché fondamentalmente la moglie penelope aveva già tentato di far uccidere il marito sotto ufficiale di cavalleria chiedendolo proprio al suo amante che lavorava in quell'ufficio postale da cui lei manderà quella lettera senza nessun tipo di intenzione di suicidarsi quella mattina né mai ma con l'intenzione evidentemente di unirsi pensate a un terzo amante a un giovane panettiere che pareva essere estremamente interessato alle grazie della signora penelope che in un colpo grazie a questo colpo di genio grazie a questa raccomandata riesce a liberarsi contemporaneamente dell'amante a colpi d'arma da fuoco per l'estremo ricorso diciamo all'onore del marito che finirà in galera per Bergastolo quindi un colpo di genio un crimine eccezionale per il primo maggio 2024 facendo riferimento a tanti tanti anni fa 1890 questa è la piccola pillola di crimine per il primo maggio oggi ci vediamo domani con un'altra pillola ci vediamo domani con una puntata speciale della bottecuccia dei sigilli in cui parlerò di un parallelismo meraviglioso fra artisti e serial killer ciao ciao a presto dal teo cracker part ciao a presto ciao a presto